Di Giuliano era una cosa sola con il clan camorristico dei Casalesi. A dirlo sono pentiti eccellenti della cupola camorristica di Casal di Principe. Le loro dichiarazioni, la loro collaborazione hanno contribuito a definire le esatte dimensioni della portata criminale del sodalizio che è stato sgominato ieri mattina all'alba grazie al blitz congiunto di finanza e polizia. Paolo Sarandrea. Mentre si attendono gli interrogatori di garanzia emergono nuovi particolari sull'operazione Arcobaleno che ha portato all'arresto di 11 persone per associazione mafiosa e alla denuncia di altre 65 indagate a piede libero per riciclaggio e intestazione fittizia di beni. La portata criminale degli indagati, affiliati e fiancheggiatori del clan Mallardo di Giuliano emerge con chiarezza dalle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia della camorra casertana e napoletana. Tra questi c'è Domenico Bidognetti, cugino del super boss dei casalesi Francesco Bidognetti, soprannominato Cicciotto e Mezzanotte. Secondo il pentito Giuseppe dell'Aquila, detto Peppe Ociuccio, latitante dal 2002 e ieri di nuovo sfuggito alla cattura, avrebbe partecipato con ruolo attivo alle riunioni col clan dei casalesi e con gli altri reggenti delle cosche dell'alleanza di Secondigliano come Gennaro Ricciardi ed Edoardo Contini. Vertici di camorra nel corso dei quali venivano definite strategie ed organizzati omicidi. A quelle riunioni cui dell'Aquila avrebbe partecipato in qualità di braccio destro del boss oggi detenuto, Francesco Mallardo, sarebbero stati presenti più volte i fratelli di Peppe Ociuccio, Giovanni e Domenico dell'Aquila, ieri arrestati da polizia e finanza nelle loro abitazioni nel quartiere storico di Mola a Formia. I due sono oggi accusati di associazione di stampo camorristico e di una serie di intestazioni fittizie di beni e quote societarie volte a deludere le misure di prevenzione patrimoniale.